Ciao Giulia, sono ingegnere informatico, da molti anni mi occupo di sviluppo web, anche se ultimamente non scrivo molto codice. Sono entrato nel mondo Wordpress più o meno da 2010 e da quel momento non sono più uscito e sono attivo su vari fronti nell'ambito di Wordpress, appunto come sviluppatore di plugin, ma anche diciamo come membro della community e tra l'altro approfitto dell'occasione anche per fare un po' di pubblicità al meetup di Teramo che partirà proprio questo martedì, quindi se qualcuno è in zona ovviamente è più che benvenuto a partecipare. L'argomento di questo talk è appunto la command line, ma prima di arrivare a parlare diciamo di command line, vorremmo un attimo ripercorrere quella che è stata la storia dell'interazione tra l'uomo e la macchina, human computer interaction. Si tratta di una disciplina che inizialmente era sostanzialmente parte di quella che era l'informatica, ma nel corso degli anni ci sono ricevuto importanti contributi anche da altre discipline, soprattutto quelle delle scienze cognitive, tipo la psicologia, nonché dal design, dall'ergonomia, eccetera. Quindi sostanzialmente oggi quando parliamo di interazione l'uomo e la macchina è una materia che è multidisciplinare. Vediamo quindi un po' di storia. Se partiamo dalla pre-storia informatica, quindi i primi calcolatori, addirittura calcolatori meccanici dell'Ottocento, per poter interagire con essi si utilizzavano delle schede perforate, quindi dei cartoncini con dei buchi con cui potevamo inserire le istruzioni e i dati della macchina e la macchina ci rispondeva con altre schede perforate. Le schede perforate sono state utilizzate anche per i primi calcolatori elettronici, diciamo nella pre-storia informatica. Poi l'evoluzione ci ha portato a avere magari le prime calcolatrici programmabili con un tastierino numerico per inserire i dati e una stampa su un nastro di carta per leggere i risultati delle operazioni. Poi ovviamente sono arrivati i personal computer direi propri. All'inizio l'interfaccia era un terminale, quindi con una tastiera alfanumerica e un video e l'interazione era puramente testuale, quindi l'utente inseriva dei comandi da tastiera e leggeva l'output a schermo. La vera rivoluzione c'è stata con l'introduzione dei sistemi operativi dotati di interfaccia grafica, quindi come Windows, Mac OS, eccetera, che con l'introduzione del paradigma cosiddetto WIMP, cioè l'uso di finestre, icone, menu e puntatori, ha permesso a molte più persone di utilizzare un computer senza avere comunque delle conoscenze di informatica pregresse. Quindi questa è stata la rivoluzione che ha di fatto favorito un'enorme diffusione della tecnologia e dell'informatica. Un'altra rivoluzione è stata quella del web, che ci ha permesso non solo di interagire con la macchina su cui mettiamo le mani, ma con altre macchine sparse per il mondo grazie appunto a Internet. Ulteriore rivoluzione, quella degli smartphone. In questo caso c'è stato un miglioramento, un cambio, ma un miglioramento per il fatto che possiamo portarci in giro quello che è un computer senza dover ad esempio avere un mouse, grazie al fatto di avere un touchscreen con cui possiamo interagire con la macchina in modo ancora più intuitivo. Non finisce qui. Oggi è abbastanza comune usare dei comandi vocali, sia con lo smartphone che con il computer, oppure con dispositivi fatti apposta per fare da assistenti vocali. Ci sono altre applicazioni, diciamo, di queste magari un po' più futuribili, che non hanno ancora una diffusione di massa, anche se già da molti anni ci sono prodotti disponibili anche sul mercato consumer, come la realtà virtuale arrottamentata, che vanno addirittura oltre sempre nell'ambito di interazione uomo-macchina. E questa carrellata perché l'ho voluta fare? Per far capire che il percorso che c'è stato in tutti questi decenni di sviluppo è stato quello di spostare sempre più l'asse della comunicazione verso l'umano, a scapito, tra virgolette, della macchina. Nel senso che le macchine sono diventate più intelligenti per riuscire a comunicare meglio con l'uomo. Quindi il risultato è stato che da parte dell'uomo l'utilizzo delle macchine è diventato più semplice, più intuitivo, più accessibile. Ma c'è un ma, nel senso che non è sempre detto che un'interfaccia più evoluta, più moderna, più intuitiva sia anche necessariamente il modo più efficace per risolvere un problema. Ci sono degli ambiti specifici, e ovviamente questo è lo scopo del talk, in cui usare un'interfaccia magari più datata, come la linea di comando, permette di risolvere un problema in una maniera molto più efficiente. Qui trovate un po' di termini che probabilmente avrete visto in giro, shell, prompt di comando, riga di comando, eccetera, terminale. Sono tutti termini, anche se non sono propriamente sinonimi tra loro, che hanno in comune il riferimento al fatto di avere un'interfaccia da linea di comando, quindi command line interface. se andate a vedere su Wikipedia, la definizione, la linea di comando semplicemente è un tipo di interazione che è caratterizzata dal fatto che l'utente scrive degli comandi testuali e riceve l'output sempre sotto forma di testo. A questo punto magari uno si può chiedere sì ma noi stiamo a un WordCamp, stiamo parlando di Wordpress, cosa c'entra tutto questo? Per rispondere ho voluto un po' scimmiottare una pubblicità di qualche anno fa e quindi diciamo che ogni giorno uno sviluppatore Wordpress si sveglia e sa che utilizzando la linea di comando la sua vita sarà migliore perché potrà lavorare in maniera più efficiente. E fin qui, diciamo, per chi sviluppa non c'è molto di nuovo. Al contempo però ogni giorno un amministratore di siti Wordpress, che magari non è un programmatore, si sveglia e magari non sa che anche lui potrà avere un vantaggio dalla command line. Lo scopo del talk è proprio far capire che per fare un utilizzo base di questo tipo di strumenti non bisogna per forza essere dei programmatori. E' chiaro che ci vuole un minimo di sforzo in più per poter iniziare, però è fattibile. Quindi, che voi siate programmatori o no, usate la command line. E in particolare, WP-CLI, o se la volete pronunciare all'inglese WP-CLI, che è un progetto relativamente recente nell'ambito Wordpress che vi permette di interagire tramite linea di comando con un'installazione Wordpress e potete fare molte operazioni. Tra l'altro, nel pomeriggio, c'è proprio un altro talk di John Blackburn sull'argomento, ovviamente più approfondito di questo che vi sto facendo io. Chi fosse interessato ad approfondire, sicuramente è una occasione interessante. Andiamo avanti con qualche definizione. Shell è sostanzialmente la parte di un sistema operativo che permette di inserire i comandi. A noi ovviamente interessa le shell basate su linea di comando. Non tutte le shell sono command line. In tutti i sistemi operativi, ovviamente, possiamo accedere alla shell. In Linux, va da sé che chiunque usi Linux sa già cosa è la shell, non ha bisogno che li dica nulla. E su Mac abbiamo nativamente un'applicazione che è il terminale, voi l'aprite e avete la shell con cui potete eseguire i comandi. Su Windows il discorso è un po' più articolato perché abbiamo varie possibilità. Dal prompt dei comandi, che è una sorta di eredità del vecchio MS-DOS, la più recente PowerShell, che invece è una shell abbastanza potente che c'è su Windows, e in tempi più recenti, una cosa molto interessante che è stata introdotta da Windows, è il Windows Hub System for Linux, che vi permette di avere una vera e propria macchina Linux, diciamo, o meglio, la possibilità di eseguire dei comandi Linux su una macchina Windows. Oppure ci sono altri pacchetti, tipo Seguin o Ming, che anche quelli, diciamo, sono pacchetti installabili e vi forniscono una serie di utility tipicamente disponibili su Linux, ma non su Windows. Questo perché, quando parliamo di WordPress, il suo ambiente, diciamo, tra virgolette naturale, è Linux. E anche se poi, in realtà, può girare tantissime la metà che sono Linux. Su Linux, la shell più famosa è quella che si chiama Bash, che, diciamo, rappresenta un po' lo standard, de facto, delle shell. Ce ne sono molte altre, anche, magari, più evolute, però questa è quella che si prende in genere come riferimento. Oltre ad essere una shell, è anche un vero e proprio piccolo linguaggio di programmazione, perché mette a disposizione funzioni, strutture di controllo, con cui potete fare degli script e quindi, diciamo, anche automatizzare alcuni processi, eccetera. E qui vi ho messo un link con un po' di documentazione, anche. Parliamo, quindi, di SecureShell. SSH, che sicuramente, più o meno, tutti hanno sentito nominare, SSH è un protocollo con cui potete aprire una connessione remota tra la macchina in cui state operando e una macchina remota. Quindi, è sostanzialmente una shell remota con una connessione sicura. Per utilizzare SSH c'è un comando opposito, quindi, nella shell locale che avete, digitate SSH e vi connettete a un nostro remoto. Oppure, come ad esempio su Windows, potete utilizzare un'applicazione che funge solo da client SSH. Quindi, non è una shell locale, ma funge da client SSH. Il più famoso è Putty, ma ce ne sono anche altre. Anche da mobile è possibile usare SSH. Ci sono delle applicazioni apposite, bastate ve le installate e le potete usare. A me è capitato più di una volta che magari ero in mobilità, non avevo il computer dietro. Dovevo fare un'operazione su un computer remoto, da cellulare, mi sono connesso di SSH, e ho lanciato dei comandi. Qui vi ho messo alcune scorciatoie da tastiera, non che siano molto importanti, però magari se iniziate a usarlo potrebbero farne utili. Soprattutto, quella universalmente più usata, il tasto Tab, che funge da autocompletamento, e quindi vi risparmia di digitare tanti caratteri, perché vi autocompleta quello che volete fare. I tasti frezza vi aiutano nel navigare tra i comandi che avete già inserito, e così via. Non mi voglio dilungare troppo perché il tempo è un po' tiranno. Come fate un comando? Allora, voi quando avete davanti una shell, tipicamente vi trovate il cosiddetto prompt, cioè una stringa che vi indica lo stato corrente in cui siete, che in genere comprende il nome dell'utente, il nome del computer o della macchina in cui siete, e la cartella corrente. A questo punto voi potete digitare il comando, che è composto da varie parti. Il nome del comando stesso, poi una serie di stringhe, che possono essere o delle opzioni, che sono tipicamente precedute da un trattino o due trattini, e poi una serie di argomenti, ad esempio il nome di un file su cui quel comando deve agire. La command line ha la caratteristica di essere un po' criptica per il fatto che usa molti simboli, e se uno non ne conosce il significato magari fa fatica a leggere. E anche i nomi dei comandi stessi spesso sono molto molto stringati, e quindi non sono molto autoesplicativi. Qui ci vuole un attimo di tempo per ambientarsi, ma una volta che si entra nell'ottica, poi tutto è orientato a fare le cose nel più veloce tempo possibile. Quindi ad esempio punto e punto punto indicano la cartella corrente, oppure la cartella padre. La tilde indica la cartella home dell'utente. La barra è la cartella radice. Il dollaro, così com'è in PHP, serve per accedere alle variabili. L'e commerciale messa alla fine di un comando, vi permette di lanciare lo stesso comando in background. e così via, il cancelletto per commentare. Il problema che probabilmente molti neofiti della command line hanno è quella che è la cosiddetta sindrome della pagina bianca, o se volete in questo caso della schermata nera, nel senso che uno si trova di fronte a una schermata nera e non sa che cosa deve scrivere. Però se uno ha già più o meno in mente il comando che gli serve, e per questo diciamo c'è la documentazione, il bello è che direttamente dalla linea di comando potete vedere la documentazione di quel comando, digitando il comando man, che sta per manuale, con il nome del comando che vi serve, oppure comando con meno meno help, che è l'opzione che vi fa venire fuori l'help in linea. Questo è un buon esempio con il comando ls, che tra poco vi spiego cosa fa, nel caso non lo sappiate. Un po' di comandi sparsi per gestire i file, che comunque sono sempre utili, quindi qual è la cartella corrente, come si fa ad andare in un'altra cartella, creare o rimuovere cartelle, ls, quello che vedevamo poco fa, semplicemente spara fuori l'elenco della cartella in cui siete, o una cartella che vi passate come argomento, ci sono dei comandi per rinominare, per spostare, per copiare, per cancellare, per cambiare i permessi, per cambiare il proprietario, per fare delle ricerche all'interno dei file, o meglio, non all'interno dei file, diciamo, per cercare un file all'interno di una struttura di cartella. Tra poco vi farò vedere anche qualche esempio. Visto che lavoriamo in ambito web, capita anche spesso di dover fare dei trasferimenti remoti, quindi da una macchina all'altra, e quindi ci sono anche una serie di altri comandi per fare questo. Ad esempio, vget vi permette di scaricare via HTTP o via FTP dei file. SCP è un altro comando che vi fa la copia tramite SSH, poi abbiamo dei client interattivi con cui potete interagire inserendo dei comandi FTP, e poi abbiamo rsync, che è un comando molto potente che vi permette di fare delle sincronizzazioni di interi rami di cartelle, eccetera. Un concetto che è abbastanza importante quando si usa la command line è quello dei canali di comunicazione che un comando ha a disposizione quando è in esecuzione. Si parla di standard input, standard output e standard error, che sono appunto i canali attraverso cui un comando opera. Normalmente lo standard input è la tastiera, lo standard output è l'output che vi vedete al video, lo standard error è un canale particolare che normalmente è sempre mandato sul video e che è usato per la comunicazione di errori durante le esecuzioni. La cosa interessante è che voi, questi canali qua, ci potete giocare facendo delle ridirezioni, quindi potete far sì che l'input o l'output, anziché essere la tastiera o un file, scusate, la tastiera o il video, possono essere dei file, quindi dei file di input, dei file di output, inoltre, e questo usando minore e maggiore, oppure diciamo varie combinazioni un po' più complicate, oppure potete usare la file, quindi quella stanghetta verticale che vi ritrovate sulla tastiera, per accodare più comandi, facendo in modo che l'output di un comando costituisca l'input di quello successivo. Qui vi ho messo qualche esempio, il caso della pipe, un caso tipico è l'uso del comando more, che semplicemente fa la paginazione dell'output del comando precedente, quindi nel caso del comando precedente vi spari fuori un output molto lungo, con il comando more potete vederlo paginata per paginata. Detto questo, vi volevo illustrare alcuni esempi applicati a WordPress di utilizzo della command line. Primo esempio è installazione di un sito WordPress, cosa che immagino chiunque in questa stanza abbia fatto più e più volte, l'approccio tradizionale che in genere un utente medio fa è andare su wordpress.org, scaricarsi il pacchetto zip, scompattarlo, poi magari caricare via ftp tutti i file sul server online. Col problema è che caricare i 2000 file di WordPress via ftp, soprattutto se avete una connessione non tanto veloce, ci potrebbe volere parecchio tempo. Con la linea di comando potete accelerare questi tempi perché vi aprite una shell remota e andate nella cartella in cui volete installare WordPress e lanciate uno script che avete magari creato in precedenza che vi fa alcune operazioni. Come può essere fatto questo script? Ad esempio, questo è un primo esempio, diciamo, non proprio ottimizzato, perché poi me ne faccio vedere ovviamente uno migliore. Con il comando vget andiamo a scaricare la versione che ci interessa, in questo caso ho preso per italiana, il comando un zip la scompatta, poi siccome il pacchetto contiene una cartella WordPress connetto tutti i file, dobbiamo spostare tutti i file nella cartella in cui siamo, a quel punto facciamo un po' di polizia. Però, diciamo, quello che abbiamo fatto fino a qui è stato semplicemente scaricare i file e piazzarli lì, non abbiamo ancora installato WordPress. In questo caso poi l'installazione bisogna farla comunque via web, aprendo l'url tramite il browser e seguire la procedura di installazione standard di WordPress. Il passo successivo che consente di accelerare ulteriormente è quello di usare WPCLi. Con WPCLi potete fare tutte le precedenti operazioni totalmente via shell, totalmente, inclusa anche l'installazione di WordPress. Non dovete neppure aprire il browser. Alla fine della procedura vi trovate WordPress installato, attivo, con l'utente creato, tutto pronto per funzionare. E sono tre comandi. Con tre comandi voi avete risolto l'installazione di WordPress. Il primo sostanzialmente fa il download. WP, Core Download. Volendo potete specificare anche qui se vi interessa una lingua particolare, altrimenti lui si scarica la versione inglese. Con il secondo andate a configurare il WPConfig.php. In questo caso si usa, nel mio esempio ho messo l'opzione meno meno prompt, che fa sì che l'esecuzione sia fatta in maniera interattiva. Cioè lo script vi chiede tutti i dati che servono per compilare il WPConfig. Quindi vi chiederà il nome del database, il username del database, la base del database. E per il resto fa tutto lui. Infine c'è WPCore Install, anche qui eseguito in maniera interattiva, che vi fa la vera e propria installazione di WordPress da linea di comando. Vi chiede le stesse informazioni che vi chiede l'installazione via web, quindi ad esempio il nome utente, la password del primo utente amministratore da creare, il titolo del sito e diciamo quell'informazione di base che vi chiede anche l'installazione fatta via web. A quel punto lì è finito. Il sito è già installato. E la cosa bella è che poi voi potete anche personalizzare il vostro script di installazione, perché magari avete, che ne so, alcuni plugin che installate sempre, potete automatizzare anche con l'installazione lì. Quindi aggiungere dei comandi che ad esempio installano alcuni plugin che voi usate sempre. Quindi poi vi ritrovate con un singolo comando e diciamo l'inserimento del minimo indispensabile dei dati avete risolto l'installazione di WordPress. Un altro esempio è quello della clonazione di un sito WordPress. Magari avete già un sito operativo, volete fare una copia per fare dei test, normalmente un utente medico cosa farebbe? Si prende tutti i file, li copia in un'altra cartella, poi deve prendere il database, esportarlo, fare un dump, magari tramite PHP MyAdmin, importare lo stesso dump nel nuovo database del sito di destinazione e a quel punto effettuare il search replace. Il search replace perché ovviamente i due siti avranno due URL differenti, quindi dovrete andare a sostituire il URL originale con quello della copia. Qui attenzione perché molti cascano sul problema dei dati serializzati. Nel database di WordPress ci sono alcune informazioni che vengono salvate con una codifica serializzata, il che vuol dire che se voi fate un search replace grezzamente, tipo ad esempio sul file SQL, rischiate di andare a corrompere il formato di questi dati e quindi il risultato è che vi perdete dei dati. Quindi anche con un approccio tradizionale dovreste comunque porre attenzione a search replace. Ci sono dei tool appositi sotto forma di plugin o di script e quindi da non dimenticare questo aspetto. Se però invece questa cosa la vogliamo fare usando la linea di comando, in particolare da WP CLI, anche qui abbiamo la vita in realtà più semplice. Se noi ci creiamo uno script tipo questo, che adesso vi illustro brevemente, possiamo fare la copia alla fine, una volta che lo script l'abbiamo creato, digitando una singola riga di comando. Con un singolo comando si occupa di fare la copia dei file, la copia del database e anche il search replace. Questo è un esempio giocattolo, quindi funziona in realtà, però non ho messo controlli sugli input eccetera. Però in realtà funziona. Quindi come funziona questo script? molto brevemente. Andiamo nella cartella sorgente. $1 qua, prima non l'ho detto, vuol dire accedere alla variabile che è il primo argomento con cui lo chiamiamo. Quindi in questo caso il primo argomento è barra sdc, che è la cartella sorgente. Quindi ci spostiamo nella cartella, lanciamo questo comando che, come si può intuire leggendolo, esporta il database in un file WP SQL. A questo punto con il comando cp facciamo una coppia ricorsiva, il meno R sta per ricorsivo, quindi vuol dire che copiamo tutti i file dalla cartella sorgente alla destinazione. A questo punto ci muoviamo nella cartella di destinazione, andiamo a editare il WP config. In questo caso questo comando in realtà lancia un editor di testo, sempre all'interno della shell, con cui potete aggiornare le credenziali di accesso al database, perché ovviamente se state facendo una coppia anche il database sarà separato. A quel punto fate l'import in questo nuovo database e da notare che WP CLI riconosce in automatico a quale database volete accedere perché lo va a leggere dal WP config della cartella in cui siete. A quel punto fate il search replace, in cui passate come argomenti il terzo e il quarto, che sono l'indirizzo HTTP sorgente e l'indirizzo HTTP di destinazione, ed è finito. Poi qua, giusto, se volete fare le cose pulite, andate a cancellare RnStarterRemove i due file SQL, perché a quel punto non servono più. E il gioco è fatto. Migrazione di un sito WordPress, in realtà è un'operazione molto molto simile alla tronazione, con la differenza che, quando si parla di migrazione in generale si intende il trasferimento tra due host che sono remoti. Con un approccio tradizionale, anche qui normalmente si passa da FTP, quindi con i tempi del caso, con un approccio a linea di comando, possiamo invece usare un di quei comandi che vi ho visto prima, che vi ho mostrato prima, come ad esempio R-Sync, che fa un trasferimento server to server, quindi non dovete scaricarvi locale per poi ricaricare. Fanto trasferimento server to server, tra l'altro potete, essendo un tool di sincronizzazione, potete anche rilanciarlo più volte, nel caso nel frattempo siano intervenute delle modifiche, oppure magari se si è interrotto per qualche motivo la connessione. Se però non avete l'accesso SSH sul server da cui dovete tirare giù i dati, cosa in realtà molto frequente, perché non tutti i provider di hosting mettono a disposizione l'accesso SSH, potete risolvere anche qui con un singolo comando, potete scaricare VFTP, sempre diciamo in maniera server to server, l'intero sito. Quindi con un singolo comando lui vi tira giù VFTP, tutti i file del sito. E per il resto la procedura è grossomodo la stessa che abbiamo visto per la cronazione. Un altro esempio è verificare la versione di WordPress plugin e temi. Uno scenario possibile è che abbiate un server, magari di produzione, con le installate decine o anche a volte centinaia di siti WordPress. E a un certo punto vi viene la necessità di sapere qual è la versione di WordPress presente in ciascuno di quei siti. Perché? O di WordPress o anche di un plugin o di un tema. Perché magari è stata scoperta una vulnerabilità che riguarda una certa specifica versione di WordPress o di un plugin o di un tema e voi volete sapere se potete stare tranquilli oppure se dovete precipitare ad aggiornare quel plugin o quel tema. Anche qui con un comando, che è il comando find, specificando un po' di argomenti, adesso non entro troppo nel dettaglio qui, però se qualcuno è interessato io lo posso spiegare anche in maniera molto più dettagliata. Con un singolo comando potete ottenere l'elenco di tutte le installazioni di WordPress che stanno in una certa parte del server. E anche con WPKli potete fare una cosa analoga. C'è un comando analogo anche WP CLI. Stessa cosa per cercare un plugin o un tema. In questo caso WP CLI non ha un equivalente, però potete usare il comando find e in questo modo qua potete vedere se nel vostro server, nelle migliaia e migliaia di file che avete, avete magari una copia di bel plugin installato da qualche parte. Stessa cosa per i temi. Cambia un po' la sintassi perché in un caso dobbiamo cercare dei file che fanno parte di un plugin, nel caso dei temi ovviamente ci andremo a concentrare ad esempio sullo style CSS che è quello che contiene il numero di versione del tema. L'altro esempio, verifica di integrità. Verifica di integrità ci può tornare utile ad esempio quando un sito web è stato compromesso, è stato violato da un hacker ad esempio. Se vogliamo essere sicuri che non siano rimasti dei residui di questa intrusione, quindi magari del codice malevolo che chi ha violato il sito ha inserito all'interno dei file, quello che dovremmo fare realmente è verificare file per file se è uguale al file originale che abbiamo scaricato in origine da WordPress.org cosa che ovviamente farla a mano nessun umano potrebbe fare visto le migliaia di file che abbiamo. Anche qui ci viene in aiuto sempre WPCLI che ha dei comandi che fanno la verifica del checksum. cioè fanno un'analisi di tutti i file che avete nell'installazione locale di WordPress e li confrontano calcolando un checksum che sostanzialmente diciamo è un codice che viene calcolato sulla base del contenuto del file è un codice univoco una sorta di hash diciamo e lo confronta con la versione originale che è presente su WordPress.org e vi dice se ci sono stati dei file aggiunti o eventualmente modificati e in quel caso vi aiuta quindi ad individuare possibili residui di un'intrusione. Con WPCLI originale potete fare questa cosa per il core e per i plugin al momento non ancora per i temi ma c'è un addon di terze parti che è WP checksum che praticamente estende WPCLI che vi consente anche di eventualmente fare la stessa cosa sui temi quindi verificare se i temi ovviamente questa cosa funziona solo su quelli del repo di WordPress.org non per quelli commerciali. Ultimissima cosa che in realtà non ha una relazione stretta con WordPress ma che probabilmente a molti di voi è capitata la migrazione di una casella di posta elettronica magari da un provider a un altro dove per migrazione intendo anche proprio lo spostamento dei messaggi. In un approccio tradizionale quello che un utente medio fa è aprire il suo client di posta IMAP configurarsi i due account quello sorgente e quello di destinazione e poi mettersi a copiare o spostare i file e le cartelle. Il problema è che questa procedura diciamo non è affidabilissima soprattutto se magari avete giga e giga di messaggi nel vostro archivio email e quindi se qualcosa va storto magari vi tocca rinunciare da capo anche qui ci viene in aiuto un tool da legato ai domandi che si chiama IMAPSync che altro non fa che sincronizzare due caselle tramite IMAPSync quindi voi con un singolo comando qui dovete passare un po' di parametri che sono i parametri di configurazione delle due caselle e le relative credenziali IMAPSync con un singolo comando potete fare il trasferimento di tutti i messaggi ovviamente ci metterà il tempo che ci mette però arriva in fondo e non sbaglia e nel caso sbagliasse comunque essendo che comunque lui fa una sincronizzazione lo potete rilanciare più volte e lui continua da dove era rimasto e IMAPSync poi in realtà è un programma è un tool che ha moltissime opzioni ad esempio vi permette anche di fare la rimappatura delle cartelle cartelle di default tipo la posta inviata spam cestino nel caso in cui tra un sistema e l'altro abbiano dei nomi diversi ad esempio questo è un esempio che è una migrazione da Gmail da una mail basata su cpimer a Gmail in cui ci sono delle nomenclature diverse in quel modo lì passando i parametri giusti potete tenere conto che è diverso niente io ho finito se ci sono domande grazie grazie